IPLE ha presentato e divulgato i risultati del progetto europeo Adresismic sulla messa in sicurezza dal punto di vista sismico degli edifici storici dei centri urbani nell'area geografica Adriatico-Ionica. Il progetto di ricerca, nell'ambito del programma Interreg, ha visto coinvolti otto partner europei, tra cui IPLE, provenienti da sei paesi, Italia, Albania, Croazia, Grecia, Serbia e Slovenia. Ascoltiamo direttamente dalla voce di una partner quali sono le caratteristiche tecniche della struttura del progetto. Ci siamo occupati quindi di studiare nuovi approcci e armonizzare il contesto normativo e abbiamo sviluppato una metodologia per la valutazione speditiva della vulnerabilità sismica degli edifici e ci siamo occupati di sviluppare nuovi pacchetti formativi rivolti a tutti gli attori che sono all'interno del processo della ricostruzione. Nell'ambito del progetto Edrisismic abbiamo tre casi pilota a Bologna, in Croazia e a Creta e abbiamo applicato la metodologia speditiva che abbiamo sviluppato nell'ambito del progetto.